tante emozioni contro una squadra organizzata veramente forte che puntava veramente a risalire dopo tre sconfitte però noi oggi abbiamo dimostrato di stare lì su e soprattutto di meritarcelo siamo un gruppo d'amici che partita dopo partita mette sempre qualcosa in più e stasera l'abbiamo dimostrato perché andare sotto 2 a 1 a pochi minuti dalla fine contro una squadra del genere e riuscire a vincere la 3 a 2 è veramente qualcosa di importante quindi sono super contento anche per la prestazione e per il gol e niente quindi dobbiamo solamente continuare così per la prossima partita assolutamente sì è un gol che ti dico la verità faccio spesso sta un po nelle mie caratteristiche lo dedico a un mio grande amico fabrizio tiberti che è un carissimo amico che ogni giorno mi spinge a fare sempre meglio quindi questo cova a lui guarda gli obiettivi inizio campionato erano salvalci tranquillamente ma ti dico la verità adesso un occhio a quelle che stanno davanti a noi lo stiamo dando perché stiamo dimostrando veramente di poterci stare quindi l'importante è stare compatti uniti non montarci la testa e continuare così e l'ho detto prima secondo me il gruppo essere diventati anche in poco tempo amici magari un parolone però aver fatto gruppo ogni sera essere in 11 12 anche gente che magari gioca meno minuti rispetto a altri viene comunque al campo e questo è importante per un gruppo e sono veramente contento di farne parte